Eppure con gli esercizi ginici, lavorare, stai attenti alla sigaretta, al colico, andate in palestra tre volte a settimana. Three times a week, workout, no drugs, no cigarettes, no liquor, because it's not good for you. Trust me, workout three times a week, it's very good. Stay fit, so you stay in shape. Take care of yourself. Se chiamate dall'Italia, se mi vedete dall'Italia, saluti a tutti a Roma, Taranto e a tutti gli italiani. Ciao qui da Hollywood, Rick Martino, Rick Martino, this is from Hollywood, California, this is Rick Martino, 323-850-8580. Ciao!